Spesso la figura dell'archeologo è associata a Indiana Jones, un avventuriero in cerca di città perdute e antichi tesori. Tuttavia la realtà dell'archeologia è molto diversa, è una scienza precisa e metodica che si concentra sullo studio delle civiltà del passato. Come in ogni disciplina scientifica, gli archeologi si specializzano in specifiche aree geografiche e periodi storici, combinando teoria e pratica. Dopo aver acquisito esperienza, possono partecipare a spedizioni internazionali dove non solo scavano, ma dirigono gli scavi stessi. Durante gli scavi la sveglia è l'alba e ci si prepara per una giornata intensa di scavi e ricerche. Sul campo gli archeologi utilizzano una vasta gamma di attrezzi, come picconi, pale e carriole, per rimuovere la terra e rivelare antiche strutture, per poi passare a pennelli e cazzuole per far emergere i reperti. Ma l'archeologia non si limita solo agli scavi, gli archeologi infatti trascorrono anche tempo prezioso a documentare e catalogare i reperti rinvenuti. Attraverso la fotografia, la registrazione dettagliata e l'analisi, si preservano le informazioni essenziali per comprendere il passaggio.